L'erba delle Bettole sa garantire emozioni anche a novembre e c'è una femmina di due anni che si merita la copertina. Cloredi, allieva di Antonio Marciali, si è affidata al Fantino Gabriele Malune, si è tolta la qualifica di Maiden, vincendo di prepotenza la prima corsa della sua carriera, il premio nerviano sui 1500 metri e con una dotazione complessiva di 12.100 euro. Partita subito forte, Cloredi ha seguito per tutto il tracciato da Vabina, sempre davanti, a imporre il proprio ritmo. All'ingresso della retta finale Malune ha attaccato la battistrada, raggiunta e superata sul palo di una corta incollatura dopo aver lasciato dietro un agguerrito avversario, London Sky. Sulla sabbia non ha deluso le aspettative S.O.S. Elp, capace di dominare 1400 metri del premio tonale. Nonostante il peso proibitivo, 69 kg, il baio di Moreno Meioas, interpretato alla perfezione da Valeria Toccolini, si è dimostrato travolgente, sbaragliando la concorrenza con spietata autorevolezza evidente da un capo all'altro della pista. Ecco il suo assordante assolo finale, eseguito con la forza di Valeria Toccolini.